Per amore della musica ha lasciato Carasetta quando aveva 17 anni per andare a vivere nella capitale. Gianmarco Cabonia a Roma ha studiato prima pianoforte, chitarra e poi ha scoperto il suono caldo del saxofono. Negli anni ha composto canzoni e è riuscito a far emergere il suo talento negli ambienti cantautorali romani. Studia il saxofono che diventò il mio strumento di vita, cercando chiaramente un genere che poteva essere consono su tutte le situazioni, in tutte le location e sicuramente il jazz è stato il genere che mi ha dato una grande mano per poter suonare e per poter fare veramente tantissimi eventi nella capitale e dintorni. Con il lockdown e le restrizioni che hanno costretto a chiudere i locali e rimandare concerti, anche Gianmarco Caboni con un sguardo sempre rivolto alla Sardegna ha dovuto interrompere i suoi concerti nella capitale. Oggi devo dire che purtroppo col Covid è molto difficile, si è fermato tutto, anche se Roma è una città che sicuramente offre di più della Sardegna, nonostante la Sardegna è una terra che sappiamo benissimo ci invidia tutto il mondo per la sua bellezza, per il suo mare. Oggi devo dire che sono praticamente in una situazione di fermo ma ottimista e quindi spero di poter ripartire come un treno e di poter esprimere al meglio sicuramente il mio modo di suonare e di cantare.